stavo a mettere mani in faccia non considerando che c'avevo l'occhiali non sto a fa caso ma i sono sussati tutti cioè lascia vede guardi che pi che pippa che pirla ciao ragazzi Andrea ben ritrovati a tutti allora io vi dico solo questo ve l'ho già detto in uno dei contenuti precedenti sa di passacontroller challenge anche quello volendo una sola parola anzi tre ma se sta scaricando batteri chi perde tra canna acqua 100 per cento gas sui football che cosa dovete fare per rivederlo due cose semplicissime anzi tre lasciate mi piace sorprendeteci non vi chiedo un numero minimo ma soprattutto oltre a quello iscrivetevi e attivate la campanella resterete sempre aggiornati se lo fate su ogni contenuto che pubblicheremo vi arriverà sempre la notifica ci rivolgiamo a quelli che ci seguono sempre che apprezzano i contenuti di questo canale che apprezzano questo canale ma che ancora non lo hanno fatto approfittatene per raggiungere l'obiettivo non vi chiedo un numero minimo di iscritti però se ci seguite e ci volete bene fateci sto regalo per il 2024 due canali di calcio un extra calcio in descrizione o come sempre compariranno qui durante il video ragazzi questo è merito e frutto di tutte le mie accumulate che ti ho delle tue snovellinate 2016 2015 vai sul contratto andiamo su io c'ho paura di quello che pescherà perché ci sono pacchetti interessanti clicca vai lista giocatori specials io direi di partire vai su store che a bb v a zia nonna zia vai clicca senti faccio vedo tutti o allora no vedi di tutti però in in realtà sono despompicchiati che significa che li peschi vedi sì andate a recuperare chi ho pescato io però se pigli quelli che fanno i fuochi d'artificio 80 e 96 praticamente no vai semi de quinoa andiamo su giocatore gratis e si sgratizza vai vediamo un po paga con gp e conferma giusto per gli amanti del passato fai i zompetti fa le pecorine non fa niente di tutto questo sarta saltiamo su un palo curato ha detto proprio meno male t'ha detto male benissimo mamma mia ragazzi che se chi non ha visto il contenuto precedente a me m'ha detto bene e va bene ok andate a recuperare quel contenuto magari torna indietro torno indietro magari quello che non ho pescato adesso lo compenserò questi non sono gratis e manna avanti perché si devono pagare questi ci avevo tempo si c'è sta tempo c'hai venti pacchetti dovresti avere venti pacchetti vai spostate spostate eccoli allora vai più a destra fammi vedere se c'è sta questo vabbè ce lo riposiamo per il futuro vai a destra buttate a destra buttate buttate non c'è sta niente vai allora se li famo tutti si te li fa tutti come ho fatto io nel mio contenuto vi dico che io una leggenda l'ho beccata andate a recuperare chi ho beccato tra van basten fesa di ferran torres ulio cesar fernando torres van der bart e park ci sunglo pure rosicchi tra sti sei io una l'ho beccata vi dico solo questo vediamo se tu sarai più fortunato di me con sto culo che te ma pure lì sarà suo anche lì sarà su ci sta un'altra leggenda vai allora sappiamo come funziona e lo ricordiamo anche a voi mo il walk out tra virgolette deve fa no se fai fuochi d'artificio è ninchiappettata non non è deve far i raggi laser arcobaleno per essere leggenda vai vado subito con un giocatore gratis accordo al buio e confermo no paga con gp e conferma non specorizza puoi mandare avanti la spon picchia la spon picchiata e sarai dal fuoco le castagne va benissimo sta ancora all'eister e retrocesso all'eister non so io se sta ancora lì ma se ho perso castagne per strada magari avrò fatto pure il video e bombe di calcio mercato in cui l'ho annunciato da qualche carta fatte ma non mi ricordo non ricordandolo minimamente ok ora accordo al buio e conferma andiamo puoi saltare c'è sta una mazza meno male ecco qua zaruri ecco qua zaruri zaruri ma 72 vabbè ragazzi una scureggiata andiamo depotenziata oddio mi sta guardando guarda male siamo no vedete allora no 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 ci sono rimasto fregato io l'altra volta non è no raggi laser rancesterno è uno normale con a te devo mi te con a te devo mi te va benissimo 79 84 85 no ma pure qualcuno ma fallo vede minimo il giocatore tantano ho capito vai via van basten park jisung la cugina e via tutte e tre in fila vai non è poi saltarlo lo posso saltare si si marco segnorente però 80 obiettivo della juve della scorsa sessione di calcio mercato estiva laccio buon centrocampista cosa va tutto praticamente praticamente mi manca solo difensore centrale ma anche solo che fai caffè a cialde allora che ci vuoi a falli vabbè con tutti i soldi che c'hanno non ci si abbassano andiamo avanti perché non c'è niente lo puoi spompicchiare no no leva leva tanto è segan segan si 74 però una segan segan si può spompicchiare uno di 31 lasci la schermata almeno per tre secondi tre non dico tanto se qualcuno non mi interessa ho capito ma che cazzo di contenuto io stai a danza vede il cazzo è una segan vai porca puttana gratis ancora con accordo al buio giallami rozzi vediamo no non c'è perché face no 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 però l'arcobaleno no te frega attenzione no te frega e chi è ma è allenato è giulio cesar è proprio lui ma perché non ha fatto il fascio di luce è giulio cesar ecco chi è eccolo ragazzi uno dei portieri più forti che il calcio italiano abbia mai avuto mamma mia giulio uno dei 27 83 quanto diventa non lo so riflessi ottane bestia diventa sicuramente una bestia cioè ti sei attappata la porta mi sono attappata la porta perché poi voi dite ma è 83 ma non sapete con tutti i giochi bonus che c'è stanno tutti i giorni si possono dire a rigori t'ho accumulato tutti quanti allenamenti centinaia di migliaia lo porta subito a livello massimo di mortacci tua vai continua chissà se ne riesco a pescare note meno note mette mani addosso chissà c'erano ancora 14 ragazzi metto le mani addosso te metto dai due fila no questo poi leva niente o però non ha fatti i fasci olivera del napoli olivera poca roba uno dei 37 mica tanto poca roba 26 anni ma è uno dei 27 vabbè però 90 90 ci arriva secondo me 90 i fa vai giocatore gradi si è ancora accordo al buio noi fasci di luce arcobalenati no meno male va avanti vai questo poi non è entresa apre lo stadio se vedi assolutamente questo è un pallavolista ai tu aiutu incontrista direi che non me ne può fregare di meno che senso che va spesso sulla prenestina che ne sono scritto incontri scambista incontrista chiamiamo va benissimo puoi togliere perché questo è una sega non la casa del giorno ho già pescato due i cazzi due i cazzi due i cazzi va bene non ci sbaglio uno dei 41 a 24 anni vabbè però 70 33 va bene poi non ce ne frega nulla 11 io so sicuro che tutti i van basten sono conviene o male questo non è ancora non è so un paio sto vai toviglia su vecchia conoscenza del calcio italiano tante volte ri accostato in serie a sino beffardo quello di toviglia se non bastardo va benissimo andiamo avanti vai accordo al giugno di ecco perché scambista perché l'accordo al buio vuole ho capito perché hai pescato lo scambista nulla va benissimo è l'anno perinos proprio proprio lui ok andiamo avanti si va bene va tutto non mi interessa particolarmente va bastere eccolo va bastere preparate secondo me pesco fernando torres peschi van bastere vai no no credo fernando torres stia arrivato è timber just in timber lake va benissimo anche qui sorrisino beffardo di timber 14 anni ho delle potenzialità è arrivato è arrivato a 22 però zitto zitto però è molto utile i giovani così non sottovalutateli perché crescono molto molto 8 meno 8 eccolo eccolo mamma mia me so cagato sotto non è non è poi toglie non è no no questo è l'ulich 71 da ramì nata moda l'ho pescato pure io se non mi ricordo male sì se non mi sbaglio e questi sono i pacchetti baggati che appioppano destra in mano vai uno dei 43 a 21 anni per 80 gli devono da un po a tutti ne mancano sette ragazzi ok no dai dai è un'altra annata meno male va questa è mirata stai a strippettare è partito è partito l'embolo è proprio partito l'era è partito perché c'avevo paura dico questo pubblico comunque in base alle stelle me sa che sfoca sfochi d'artificio spompicchia può essere fa i raggi laser e cose andanovic che passa davanti non so se per niente male in questo vai vai 77 la solita classe la solita frase falsa che dico io per di questo è buono ci fa in cazzo fa schifo a casa magari carlson benissimo avevo flesciato class n dico ma che ha cambiato squadra non mi sembra l'inter assen proprio 76 vabbè esterno velocino sì quello che volete 5 dai cinque smadonne per uscire dalla zona non è perfetto assolutamente nulla seppi passi vivo buonadotte stati buonanotte ma ancora capa sportivamente si è vero è pure trasferimento di poco fa tra l'altro perché tranne svernata in arte nera st'estate no no non mi ricordo male un dirigibile buttato la così che non significa assolutamente no è il supposto nello qua il cazzo si va benissimo proprio lui è proprio lui è uno dei 45 però erano i due anni faccio quasi nulla se non proprio nulla ne rimangono solo tre speriamo bene ma paura mia che molte esce come esserci di rivolò a me e a te ovviamente ma io l'ho già pescato da ok chi è questo zielischi 80 però voglia di crescere questo a 92 93 ci arriva no non lo so uno dei 28 non credo però tecnicamente zielischi è tanta tanta roba allora due solo due no 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 pino p anche perché questi sono tutti i pacchetti gratis ragazzi quindi non te ne danno due leggende che l'ho già pre sappia un colpo le va va niente è in quattro stelle no tre stelle non c'è sto già l'uca la padula non c'è sto capincazzo con le stellette cose una volta di fuochi di artificio li vedo tutti da quattro mo ho detto ah i fuochi di artificio sono tutti di quattro stelle no tre stelle uno di 34 però è migliorato 33 anni l'ultimo vai dai pescato fino a mo la seconda leggenda sape schimo spacco tutto fuoco d'artificio c'è ma chi è però chi non è nulla praticamente dai lo voglio vedere fino all'ultimo questo interventi fa tutti i q fall infatti è terzi romattatore col fallo però il fallo in due sensi non solo il fallo che fanno proprio col fallo col movimento fallico da buon terzino matta allora non t'ha nata benissimo mortacci tu non t'ha nata ben avviato ulio cesare i mortacci tu a recuperare contenuto mio supportateci se volete chi perde tra canna acqua non aggiungiamo di giulione ciao ragazzi alla prossima ciao rega